Allora grazie a tutti, benvenuti o bentornati. Mi chiamo Tonia Mastroboni, ho avuto il privilegio per il quotidiano per cui lavoravo prima, la stampa, di seguire la crisi greca molto molto da vicino fino allo scoppiare della crisi del 2009 fino al 2016 quando poi sono passata la Repubblica. Quindi quello che racconta Yanis Varoufakis in questo libro è sostanzialmente quasi giorno per giorno l'esplodere di questa crisi, l'evolversi di questa crisi e come in una tragedia ben scritta, cioè io ho letto, vi dico su 900 pagine, io ho letto in due giorni come quattro maigretti, cioè è un giallo ed è la straordinaria e tragica storia di un paese come dice Varoufakis che sostanzialmente sarebbe dovuto essere il canarino nella miniera, cioè un paese, un caso che avrebbe dovuto suscitare un allarme enorme in Europa sullo stato della sinistra, sullo stato delle istituzioni europee, così non è stato. Invece la Grecia è stato, è diventato, lo dice sempre Varoufakis, il capro espiatorio, è diventato il cattivo della stanza, il bambino nella stanza, per far affrasare il titolo del libro che è appunto adulti nella stanza e che si riferisce, se non ricordo male, a un'esclamazione che si indagava il direttore generale di un fondo internazionale che a un certo punto batte con di fronte a oggi, ma insomma qui ci vogliono adulti nella stanza, riferendosi proprio all'annora ministro delle finanze greco. Il libro, ripeto, è un libro estremamente appassionante, sicuramente per me, perché per me è stato per anni come stare come voi in platea e ogni tanto scherciare dietro alle quinte e questo libro dà l'occasione di vedere le quinte e lo spettacolo e di impersonare, di impersonificare uno di questi attori. E l'altra caratteristica straordinaria di questo libro è che i personaggi non sono i personaggi di un melodrama, cioè non sono buoni a tutto tondo o cattivi a tutto tondo. Per citarne uno, Wolfgang Schäuble, che è un protagonista assoluto di questo libro, non è un personaggio cattivo, è un personaggio prigioniero di un certo modello culturale, di un certo modello e del suo stesso Parlamento. Poi magari ne parleremo con Wolfgang Schäuble, della sua stessa politica, dei suoi stessi vincoli dettati da una visione ordo-liberale del mondo, ma anche da un elettorato che si aspettava da lui certe cose. Così come non ci sono buoni a tutto tondo, così come Barufakis a un certo punto racconta che i nemici non erano solo a Borsello, a Francoforte, Mario Draghi e un altro personaggio centrale di questo racconto, o a Bernino, ma nello stesso, ad Atene, nello stesso palazzo dove lui era barricato in questi sei mesi drammatici tra gennaio del 2015 e luglio del 2015 per cercare di salvare la Grecia. Ci sono anche manovre di palazzo in questo libro, ci sono appunto, è come in un vero drama shakespeariano, Shakespeare come sappiamo ha creato un uomo moderno e qui per la prima volta, dopo aver anche noi reso conto in maniera assolutamente, come dire, bidimensionale di questi personaggi probabilmente, perché non avendo il privilegio di stare dall'altra parte, abbiamo finalmente la tridimensionalità di un racconto. E io partirei da un personaggio che ho avuto, cui il libro è sostanzialmente dedicato e che ho avuto anch'io come giornalista il privilegio di conoscere, è l'Ambros. L'Ambros è un senza tetto, adesso nel frattempo non è più senza tetto perché appunto il governo Tsipras gli ha dato una casa, durante il governo Tsipras Atene è riuscito a dargli una casa. L'Ambros era questo straordinario personaggio amatissimo da noi giornalisti perché dignitosissimo, non ci ha mai chiesto un soldo, per lui però era importante che noi raccontassimo la Grecia vera. Quindi a me mi portò personalmente alla mensa dei poveri, dove nel frattempo non andavano più solo i poveri tradizionali, andavano gli studenti che non riuscivano a mettere insieme il pranzo e la cena, andavano gli anziani che non riuscivano più a sopravvivere per la troica, per quello che la troica stava infliggendo nella Grecia. Mi portò all'orfonatrofio come dei genitori disperati portavano i bambini perché non potevano più mantenerli. Mi parlò dei suicidi, di cui parla anche Barufakis durante la crisi. E una cosa che appunto, una parola che ho imparato moltissimo dall'Ambros è dignità. E io vorrei partire dall'Ambros, perché l'Ambros è un caso emblematico perché lui perse tutto durante la crisi. E un giorno una mia carissima amica, Irene Velasco del Mundo, andò a intervistare Barufakis e c'era l'Ambros. E io vorrei che Barufakis ci raccontasse perché l'Ambros è così importante. grazie per la introduzione. Buongiorno, è diverso tenere. One of the greatest dangers for any finance minister is that one gets lost in the numbers and forgets the people. When I was a professor in universities and I would have a large audience of students, I remember I always, I think many professors do that, good ones at least, they try to pick out two or three faces and to keep looking at them, to gauge the reaction, to see if are they getting it or have I lost it. Lambros played the role of grounding me during those six months. Whenever I had any doubts about what I did, I thought of Lambros. I'll explain, no? One of the gravi pericoli that minacciano, I believe, sia di ministro delle finanze al mondo e di perdersi nelle cifre e di dimenticare le persone carne rossa. Quando facevo il professor universitario, naturalmente mi trovavo a parlare e rivolgermi a grandi battenti di studenti, ricordo che facevo una cosa che fanno molti bravi insegnanti, quelli bravi proprio. cercavo di individuare nell'auditorio due o tre facce, due o tre persone e continuavo a posare lo sguardo e tutto su di loro per capire se ancora mi seguivano o se ne ero persi. Mi bastava guardare loro per capirlo. Lambros, che Tony adesso ha menzionato, ha svolto esattamente questo ruolo per me durante quei sei mesi pazzeschi. È stato quello che mi ha riportato con i piedi per terra. Ogni volta che mi veniva qualche dubbio, cerca quello che stavamo o cercavamo di fare, pensavo a lui. Nella occasione, quando il tuo amico Irina, un giornalista spagnolo, mi portava a casa, prima che ero elettorato, questo era durante l'election campagna, ero qui, sedendo in un stand-up, ero uno dei tre. Nel fine dell'intervista mi approcci e, in grifo, mi ha detto, vorrei chiederti a voi per un favore. Quando diventate ministro? Le persone come me, stiamo chiedendo nulla di voi, è troppo tardi per noi. Abbiamo scoperto l'intervista. Ma sicuramente, che guardate dopo il resto, che non ci sono scoperto ancora. E' questa era la dignità. Scusate. L'intervista di Santefaccia, quando la sua collega Irene Velasco, la giornalista spagnola, diciamo, è venuta a intervistarmi a casa, ed era prima delle lezioni. Prima delle lezioni. Questo lato, se era lì che si aggirava a piedi, un po' seduto, sostanzialmente, non faceva niente. Stavo a sentire la mia intervista. Infatti è vero che io credevo che fosse uno dell'antorragio. E alla fine dell'intervista, il mio posto fa in greco, ovviamente, e mi dice, senta, io le devo chiedere questo favore. Quando sarà ministro lei, non pensi a noi altri. Noi siamo gente che oramai non le chiediamo niente, perché per noi è troppo tardi. Ormai noi siamo precipitati dalla ruota. Ma la prego, pensi a tutti quanti gli altri, quando sarai ministro. pensi a coloro che ancora non sono precipitati giù dalla ruota. Questa io la chiamo dignità. Scusate. Quando ho incontrato Cristina Lagarde, a cui hai parlato, ho raccontato questo nel libro. Mi ero assolutamente assicurato per quello che ha detto a me. quando i nostri amici, dopo i nostri amici, dopo i nostri amici, dopo i nostri amici, noi eravamo solo. E lei ha detto qualcosa che non aveva mai esperto di hear. Sì, Gianni, ovviamente, tu sei right. What we're asking in your country to do cannot be done. And your proposals, of course, are the ones that should be adopted. but they're not getting ready because we have invested all this political capital in the program in what was going on before. And then she turned around and said, that my credibility, that your credibility spent my career, depends on accepting the program. In other words, what she had just said cannot work. What Cristina Lagarde could not understand at that moment was that I didn't give a damn about my credibility with her. I didn't care about my career as a minister. Because I had people like Lambrose at home. Every single time I had to make a difficult decision I would say what do these people deserve. And that is essential. Quando... La prima volta che io ho fatto conoscenza con Cristina Lagarde, capo del Fondo Monetario Internazionale che Antonia ha menzionato quando fa, e lo dico nel libro, lei mi ha assolutamente sbalordito perché dopo le due ore di noia in cui siamo stati nella stessa stanza ma ci sono contatti ciascuno dei suoi assistenti ma fino a... quando se ne sono usciti tutti quanti siamo rimasti io e lei da soli lei ha detto una cosa che mai mi sarei aspettato di sentire dalle sue labbra mi ha detto Iannis ma naturalmente è chiaro che tu hai ragione che quello che noi stiamo chiedendo alla Grecia è impossibile che sono le tue le proposte che andrebbero adottate ma noi non lo facciamo noi lo faremo perché abbiamo investito troppo capitale politico nel nostro programma e quindi stai attento perché mi disse la tua credibilità e ti devo dire la tua carriera politica dipende dal fatto che voi accettiate il nostro programma le nostre proposte mi vedete conto? Lei non ha capito neanche per un istante che a me non mi riferiava assolutamente a un accidente né della mia credibilità né della mia carriera di ministro e dopo perché quello che io avevo a cuore era l'Ambros e tutti quelli come lui e ogni volta che eravamo le prese con delle decisioni difficili pesanti spinose io pensavo che cosa merita questa gente questo per me era l'essenziale voglio leggere un passaggio del libro e poi te lo passo perché secondo me è un passaggio che racconta un passaggio un momento chiaro insomma dello scontro tra Grecia e i governi europei ma che racconta anche un punto nodale della crisi europea e dell'ascesa dei popolismi cosiddetti delle destre dei nazionalismi della crisi della democrazia durante una riunione a un certo punto Schäuble leggo lanciò una dura occhiata al rappresentante spagnolo non è ammissibile che le elezioni cambino la politica economica inizio la Grecia ha impegni che non possono essere oggetto di revisione fino a quando il programma greco non sia stato completato secondo gli accordi fra i precedenti governi e la troica cioè qual è il quale punto Sifras era appena stato eletto democraticamente e aveva legittimamente l'aspirazione gli anni sarò fatti sul ministro delle finanze di dare una svolta alla terribile crisi che stava uccidendo la Grecia ma nell'euro gruppo in questa riunione che non ha una l'estimazione dei trattati ma che sostanzialmente è la riunione che comanda in Europa che può essere anche accettabile però insomma dobbiamo vedere appunto cosa viene espresso in queste riunioni in questo gruppo ciò che dice sostanzialmente ma come il precedente governo che era il governo samarazzi che era il governo di centro-destra ha preso dei dipendi con noi e voi adesso non li volete mantenere? e forse è in questo paradosso no? nella sensazione che emerge anche da questi episodi che è nata la crisi della democrazia in Europa è nata la crisi dei partiti nella sensazione degli elettori che non possono più incidere forse no? su determinati processi del governo del governo del governo e in realtà ha detto che è molto interessante che è molto interessante non mi piacerebbe il governo che ha il punto il modo che abbiamo creato l'Europa l'unico modo che possiamo continuare a pretendere che queste riunioni sono sottolineate di rispettare è per cancellare le elezioni lezioni quindi abbiamo un serio dilemmo e soprattutto in questi paesi oggi dobbiamo disintegraere l'Europa come Salvini vuole o dobbiamo democratizzare e cercare questo è il nostro dilemmo io voto democratizzare e cercare e non disintegraere grazie ed è vero è vero è vero è andata proprio così e tra l'altro vi voglio dire che al limite noi credo siamo molto indebitati perché alla fine Ricotti ha detto la verità ha detta fuori dai denti è proprio questo il modo in cui viene governata l'Eurozona cioè è stata pensata diciamo il governo dell'Eurozona in modo da garantire che se la democrazia minaccia di cambiare qualche cosa in questo modo di gestirla beh la democrazia verrà messa al vano quindi non gli do la colpa non gli è devolito a Borfo Nachoibli quando ha detto la verità e il punto è che per come è fatta l'Europa come ho appena detto è chiaro che l'unica maniera che ha per far rispettare le regole che lei impone è sarebbe quella di mettere a bando le elezioni allora noi siamo di fronte a una scelta o disintegriamo l'Unione Europea una volta per tutte non devorrebbe di Matteo Salvini e tutti quanti quelli che la pensano come lui oppure cerchiamo di democratizzare la gestione e il governo dell'Unione Europea cerchiamo di aggiustare ciò che va io sono per la seconda ipotesi c'è un altro punto che lei ha ben accennato che riguarda la crisi delle istituzioni europee la Commissione Europea è l'esecutivo dell'Europa è il governo dell'Europa che purtroppo durante la crisi greca ha avuto dei momenti diciamo importanti così di impuntatura e per fortuna si è imposta ma ci sono stati dei momenti molto umilianti per esempio Verofax ne racconta uno molto brutto in cui il commissario agli affari economici Mosco di Sì vi presenta una proposta da parte della Commissione Europea quindi legittimamente all'esecutivo che lui può accettare in quel momento è una proposta che la Grecia in quel momento si sente di accettare attraverso Verofax poco dopo vengono convocati nella stanza del presidente dell'Eurogruppo di nuovo di questo gruppo di Ministri di Finanze residuto a Dicev che sostanzialmente altro non è che il prolungamento diciamo di Wolfgang Schäuble il quale gli dice gli dà un foglio completamente diverso con delle proposte inaccettabili molto rigorose molto rigoriste da ripronta molto tedesca la Commissione in quel momento invece di insorgere dire appunto noi siamo no? un contropotere c'è un checks and balances deve esserci in Europa perché questo è il problema oggi cede totalmente e in questo forse c'è un problema enorme ed è un problema che però dobbiamo incolpare anche i governi di questo indebolimento costante progressivo e micidiale delle situazioni europee cioè le situazioni europee sono delle situazioni neutrali che possono avrebbero potuto aiutare la piaccia nutriziosa che fossero state più incisive o no? quindi la questione di aiutare la Grecia è una questione di aiutare l'Europa e di aiutare tutti questo è una tragedia di quello che sta succedendo è una maggior parte di persone in ogni singolo paese che sta soffrendo come risultato dell'idea di aiutare dell'Europa inevitabile un crisis non è sai questione di aiutare la Grecia non lo era e non lo è io penso che è la questione di aiutare l'Europa cioè di aiutare tutti noi questa è proprio la tragedia l'aspetto tragico della vicenda è proprio questo che tante tantissime persone in tutti i paesi meriti dell'Unione hanno sofferto per causa della maniera idiota di gestire la crisi inevitabile dell'Unione Europea abbiamo creato l'Europa il sistema europeo dentro dell'Unione Europea in una forma che sempre avevamo produrre e manufattura un crisi gigante finanziario l'ho detto prima e lo ripeto adesso noi abbiamo creato un sistema un euro sistema all'interno in seno dell'Unione Europea che è stato fatto come dire quasi pensato apposta fatto apposta per produrla una gigantissima crisi economica dell'Unione Europea e poi perché non avevamo l'instituzione per l'unione che avevano creare molto segreti l'unione Europea da l'unione Europea e hai un servizio e hai un servizio servizio. In altre parole, il vostro nato è venduto più per il mondo che è venduto. Il vostro servizio è rendito nella sua limita. E ancora, il vostro per capita ha diventato ogni anno. Questo è perché di questo terribile modo di gestire. E tutto ciò che sta succedendo è che il stesso establishment che ha creato la crisi e il mishandolo, è insistendo che sia un business come sempre, e insistono le regole. Ma sai cosa? Le regole, le dievano a lungo tempo, continuano a creare nuovi regole, ma che nessuno sa, nessuno sa, nessuno sa cosa le regole sono. Sono deciso dietro a creare nuovi regole, senza lo sapere, e poi cambia di nuovo. Siccome non avevamo delle istituzioni che potessero gestirla questa crisi, in certa misura creata proprio da loro, hanno messo in piedi un po' di commissioni, varie commissioni, vari gruppi ristretti, per niente trasparenti, il massimo dell'opacità. Nessuno sa, nessuno sa chi ci sta veramente dentro, ma sono loro che mandano avanti, che gestiscono la nostra vita a partire dalla crisi, dall'ora in qua. E non sto neanche parlando della commissione europea. Perché la cosa che, quello leggete nel libro, la cosa che è veramente stupefatto, la cosa più brutta che mi è capitata, diciamo, nel 2015, che a un certo punto, quando sembrava che l'Europa, che non lo sapeva, volesse aiutarci, aiutare me, al mio paese, io sapevo benissimo che c'erano dietro dei gruppi di potere, segreti, opachi, che facevano di tutto per tenerselo a questo potere. In pratica che cosa hanno creato? Hanno creato una specie di piccole società segrete. A parte l'erogruppo, che come non sai, è una fizione, perché non non esiste. Ma insomma, sono loro che gestiscono, che menano le danze e per di più le menano male. L'Italia? E l'Italia è un caso perfetto, un esempio perfetto. L'Italia è un paese che, come paese, dovrebbe andare più che bene. Ha un attivo della bilancia di pagamenti, cioè esporta più di quanto non importi, e ha un attivo, cioè il governo ha un attivo, nel senso che il governo italiano comunque da allora, dallo scopo della crisi, è riuscito comunque a sbarcare l'ognaro, a farlo sbarcare al paese. Tuttavia, guarda un po', il vostro reddito pro capite è andato calando ogni anno disastrosamente, per causa della gestione disastrosa della crisi che hanno fatto loro, quelli stessi che siedono nei piccoli e opachi comitati. Quindi è lo stesso establishment che la crisi l'ha creata, se messa a gestirla, non la sa gestire bene, ci butta del disastro, ma insiste ancora sulle regole. E attenzione però, perché le regole sono morte da pezzo, cioè o meglio, le regole sono cambiate più e più volte, perché questi se le fanno, se le rifanno di continuo e non te lo dicono, perché le fanno a porte chiuse. E poi ricominciano, e le regole, le regole, le regole, le regole. Grazie. Prima di culminare questa conversazione con il capitolo che poi ci interessa, forse appunto vi usi anche un grande libro sul fallimento della sinistra. Vorrei fare un po' l'avvocato del dialogo. Dicevo, io ho subito la crisi greca, però sono da anni corrispondente da Berlino, della Germania. Quindi adesso farò un po' la parte tedesca. Allora, la Grecia è un paese, è come se fosse l'Italia in piccolo, ha problemi molto simili a livello strutturale, ha un'evasione fiscale endemica mostruosa, c'è una grande corruzione e appunto veniva da un indebitamento già molto alto e conosciamo il famoso shock della fine del 2009, quando Papa Andreu all'epoca premier del PASOK, del Partito Socialdemocratico greco, dovette fare una confessione, cioè che il disavanzo di bilancio era un multiplo di quello che era stato dichiarato dal precedente governo di centrodestra. Ecco, io mi chiedo, voglio dire, quando anni dopo lei prese le redini del Ministro delle Finanze, sicuramente erano stati commissi gli errori perché erano stati tagliati anzitutto gli stipendi, anzitutto le pensioni, c'era stata una mostruosa operazione di taglio del sociale, degli stipendi, però alcuni problemi non erano stati ancora affrontati, cioè l'evasione fiscale è tuttora un problema in Grecia. Quando io andai a intervistare la prima volta Papa Costantino per l'amministra delle Finanze, lui mi disse, le devo confessare che noi non sappiamo quanti dipendenti pubblici ci sono in questo paese. Stavano cominciando a fare un censimento nel 2010, molto dopo l'ingresso della Grecia all'interno. C'era una spesa corrente mostruosamente alta rispetto anche all'introide eccetera. Allora, quando Varoufakis diventa il Ministro delle Finanze e questo libro lo racconta, lui affronta prioritariamente sicuramente un grande problema che era quello del debito, ma perché, come del resto gli ha consigliato qualcuno credo anche in quella fase, perché non ha insistito anche all'interno per ricostruire un po' di credibilità, perché il governo precedente un po' ne avevano persa, e affrontare questi problemi strutturali, perché questi sono problemi, cioè l'evasione fiscale è un furto alla collettività, perché lei non ha affrontato questi problemi prima di insistere moltissimo sul debito? Questa è una cosa che bisogna chiedere per le due, e anche i seguenti erano. Allow me to answer as a German. In tedesco non lo faccio. Greece was the example of a combination of inefficiency and corruption. E vi rispondo dunque da tedesco. La risposta che darebbe un tedesco è la Grecia era l'esempio per eccellenza di un connubio tra inefficienza e corruzione. Ecco perché ho passato la giovinezza a fare manifestazioni contro tutti, uno dopo l'altro, tutti i governi greci che sono passati sotto il mio naso. Ma cerchiamo di fare un esperimento mentale molto germanico. pensiamo che nel 2000, per esempio, la Grecia non fosse entrata nell'euro, va bene? In quel caso, tra il 2000 e il 2008, il nostro indebitamento pubblico sarebbe aumentato, sì, ma molto molto più lentamente. Perché le banche tedesche non sarebbero imposto a forza i prestiti. Lo sapevano, c'era in marco. Poi nel 2008 avremmo avuto una crisi, una piccola crisi. E in un anno, la crisi va fuori e continuerebbe a essere così ineffici. E così corruzione, come prima, ma senza il colapso. Poi nel 2008, sì, avremmo avuto una crisi, ma una crisi piccola. Una crisi un po' come quella della Bulgaria, che dura un anno e poi se ne è andata. Dato di che noi avremmo naturalmente continuato ad essere inefficienti e corrotti. Però, perlomeno, senza più crisi. Il motivo per cui siamo ancora nella depressione, a quasi dieci anni di distanza oramai, è che proprio il disegno della depressione, del signor dell'Eurozona, era che le banche tedesche e francesi ci ingozzassero a forza, ci imponessero prestiti su prestiti su prestiti. Allora, adesso, greco, ascolta parte della tua domanda. Cioè, che cosa ho fatto io dal Ministro delle Finanze? Chi ha letto il libro già sa che io, perché lo scrivo, mi sono prefisso due obiettivi paralleli e simultanei. La prima era una misura di natura macroeconomica, io volevo ristrutturare il debito di modo da poter abbassare le alicoche d'imposta e mettermi di fronte al mio economico nazionale e dire, belli, ora facciamo un patto. Io paro un nuovo contratto sociale e abbassano il tasse, ma voi me ne pagate. La seconda dimensione, come ricordate, è che ho setto un team di intonibili, di clean, non corruppi, un team molto piccolo, sette persone, anche dal Ministro del Finanze, per capire le tante. E ho avuto un algoritmo, computer-based, un meccanismo, che matcha le movimenti da un bank account a un altro, con i taxi che i proprietari di questi bank accounts avevano avuto 15 anni. E l'idea era, per l'ultimo Julio del 2015, avuto una presso conferenza. E io volevo ristrutturare il camera, con i miei clienti, e direi, che conoscevano quello che avete fatto durante la ultima 15 anni. Ma questo è un nuovo contratto. Noi non revanchisti. Qui c'è un sito, go to it, within 2 mesi, write down l'amonti di mani che avete forgoto di declare durante la ultima 15 anni, pay 15% solo, e noi stavamo all'amonti. E cosa succede? Abbiamo trovato 485,000, 485,000, in una piccola città, in una piccola città, che avevano le tante più di 100,000 anni. Non parla di 1,000, 2,000. e io ho avuto questa presso conferenza, in lato di Julio. Il 6 di Julio, ho ristrutturato. Il 7 di Julio, questo è tutto il libro, ho ricevuto un telefono, non ero più il ministro, ho ricevuto un telefono dal città di questa unità, e lui stava chiedendo. E lui ha detto a me, il ministro, ci sono disbandono. Perché? Perché la Troika, i nostri buoni amici in Berlino, in cui noi amici al Beredlino, i giovani e giovani, i giovani e giovani, i giovani. Perché loro hanno conosciuto che giocano davanti degli skeptici, le grandi scharze in Greece, e le sono gli delle delle persone che stanno delle business con i troika. Le sono gli dati, Le sono gli dati, che hanno bisogno al minimo pregi, sui privati delle Bedeles, le porti, le barris, e quindi ci so. Questo è il problema che abbiamo. The ones who speak for Germanic values do not respect Germanic values. So let's be German. Un manibolo di intoccabili. C'è persone pulite. Pulite... Inattaccabili piuttosto che intoccabili. Con l'incarico di pizzicare gli evasori fiscali. Va bene? Grazie al computer, grazie agli algoritmi, mettere in piedi un meccanismo per cercare gli evasori fiscali. In che modo? Prendere tutti i movimenti da conti corretti bancari greci e confrontarli con le tasse dichiarate negli ultimi quindici anni prima dai ritrovati di quei conti corretti bancari. L'idea era che io alla fine del luglio 2015 finalmente dopo anni di lavoro mi sarei seduto di fronte alle intercamere in una conferenza stampa e attraverso i loro obiettivi avrei guardato i miei connazionali e gli avrei detto ragazzi noi lo sappiamo che cosa è che avete fatto in questi quindici anni. Però noi ora vogliamo proporvi un nuovo contratto sociale, un nuovo patto sociale. siccome non ci piace vendicarci questo è il sito web andate a questo sito web entro un paio di settimane scrivete esattamente quante sono i redditi che avete dimenticato di dichiarare, su quello vi pagate il 15% e ripartiamo da zero. Vita nuova. Sapete quanti ne avevano fiscati fino a quel momento? 485.000 ciascuno dei quanti aveva evaso il fisco per oltre 100.000 euro ciascuno. La conferenza stampa l'avrei dovuta tenere alla fine di luglio ma il 6 luglio mi sono dimesso il 7 luglio ho ricevuto una telefonata non ero più ministro da uno dei membri di questo manipolo di persone che avevo incaricato della caccia agli evasori tra le lacrime mi ha detto signor ministro ancora mi chiamavano così ci stanno sciogliendo il nostro gruppo di lavoro la nostra unità di evasione l'ha stata sciogliendo perché? ma perché? quelli della Troika cioè quelli che Tony e Mastroponi ben conosce che seguono a Berlino sono i migliori amici sia degli oligarchi greci che degli evasori fiscali greci che sono la stessa cosa perché i grandi evasori del fisco greco sono i grandi pescecani i grandi profittatori che fanno affari con la Troika sono quelli lì e quindi è stata messa in mano la gestione delle ferrovie dei porti dell'accidente che ne so io delle autostrade di Grecia che sono state privatizzate quelli stessi che si rientrano la bocca dei valori germanici non li rispettano allora facciamo una bella cosa facciamo tutti i tedeschi a tutti peraltro dici prima del paradigma greco nel 2009 appunto quando Papa Andreo il Figlio Dior Papa Andreo vince le elezioni in Grecia grazie a una legge elettorale con un generoso premio di maggioranza le vince e può mettere su un governo monocolore, cioè immaginatevi nel 2009 in Grecia i socialdemocratici governavano da soli. Ora, seguendo l'evoluzione di questo partito è come se si vedesse un fin dell'orrore, un partito che appunto ha accettato le regole europee di rilancio della Grecia, le chiamavano loro, che poi è stato un massacro perché appunto hanno probabilmente stagliato totalmente nel misurare, non può solo tagliare gli stipendi, è in un certo punto qualcosa per la crescita di anche fare, però in questo crollo del Paso, che oggi è un partito che vale del 5%, beh insomma è come se si vedesse l'evoluzione di tanti altri partiti socialisti e socialdemocratici in Europa, no? E siccome la crisi greca è anche una crisi, è l'euro ma è stata anche una crisi conseguenza della crisi finanziaria, naturalmente non possiamo non chiedere a Tavifakis perché c'è questa crisi, perché la sinistra è rimasta afona di fronte a questa crisi gravissima, perché ha lasciato spazio alle destre, cioè in Grecia oggi c'è un partito in Parlamento che non ha fatto nessuna riforma, è un partito neonazista, Alba Dorata, e si è in Parlamento, era un partito che all'inizio della crisi aveva lo 0,5% e ora credo che sia rotto, e ripeto non un partito riformato, un partito neonazista, in altri paesi è andata peggio, però voglio dire, no? Niente Vanno fatti e si dice, me lo sicuro o un paese non è andata peggio? Uno, uno a casa No, parliamo anche della sinistra, cioè perché c'è fallimento? No, parliamo anche della sinistra, è una crisi europea, se non una crisi di socialdemocratia e in mio capito, il motivo è questo, qualche anno tra i 1980s e i 1990s, socialdemocrati, all'inizio, all'inizio, were very impressed by the world of finance. I remember Massimo Dilemma. No, I remember actually watching an interview and reading an article, an interview, when he was in New York and he would sit in front of the stock exchange and he started waxing lyrical about risk management and how capitalism is becoming something different because of financialization. Guardiamo quali sono le carose vere, le radici vere di questa crisi di cui ci parla Antonio Mastroboni. io penso che sia stata una crisi, se non globale, comunque pane europea, delle socialdemocrazie. Secondo me la ragione è la seguente. Tutte le socialdemocrazie tra gli anni 80 e gli anni 90, tutte queste socialdemocrazie del mondo ed essono rimaste stregate dal mondo della finanza. io ricordo di aver letto un articolo e poi visto un'intervista data da Massimo Dilemma a New York di fronte a Wall Street in cui lui, come dire, si esprimeva i termini lirici sul capitalismo dicendo che il capitalismo era cambiato perché adesso si era finanziarizzato. quindi cosa è cambiata? La socialdemocrazia, che aveva il lavoro di vita, e il lavoro di un socialdemocrat dove era Willy Brandt in Germania, Bruno Graeschi in Austria, Papa Andreu Signor in Grecia, Filipe Gonzales in Spain, il lavoro di essere come un'file tra il capitalismo e il liberalismo e per cercare di trovare alcune raccomandazioni, e al stesso tempo per taxare il capitalismo, il capitalismo industriale, fiat, prendere il money da loro e darlo ai hospitali o ai pensioni. Questo è quello che i socialdemocraziani hanno fatto. Il lavoro dei socialdemocratici da che mondo è mondo, e questo ovviamente in tutto il mondo è uno, che stiamo parlando di Willy Brandt in Germania, di Bruno Graeschi in Austria, di Papa Andreu Signor in Grecia, o di Filipe Gonzales in Spagna, un lavoro fatto in socialdemocratico, fa come l'arbitro nella partita tra capitale e lavoro, cerca qualche punto di mediazione, qualche punto di composizione degli interessi, ma il suo lavoro è quello di tassare il capitale industriale, cioè tassare le imprese per mettere questi denari a finanziare gli ospedali e tutti i servizi che servono per le persone. Questo è il meschiere del socialdemocratico. ma a partire dal 1975, io lo faccio cominciare all'incirca del 1975, il volume del capitale industriale si è ristretto a livello mondiale, dappertutto nel mondo, mentre quello delle banche, la molla, la ricchezza delle banche, è andato crescendo. Quindi, i socialdemocrati hanno avuto una difficoltà di scegliere più di soldi dall'industria per pagare per il mercato del mercato, a un momento in cui è diventato facile per loro andare in un compagno satanico compagno per l'Austria con i bankers. E' per questo che a quel tempo e da allora i partiti socialdemocratici in tutto il mondo hanno avuto un'autentica difficoltà, una vera difficoltà a cercare di sprevere più soldi dalle industrie per finanziare lo stato sociale, gli ospedali e tutto quello che abbiamo detto prima. Il tutto proprio nel momento in cui hanno avuto una grande facilità a stringere una sorta di turpe patto faustiano con le banche. Questo faustino è molto specifico. I socialdemocrati nel governo hanno detto ai bankers che avrebbero diventato un occhio e che puoi fare ciò che vuoi. In un cambiamento per una piccola quantità non ha avuto un'euro relativamente da cui si trovano l'estate di valore. Tony Blair ha fatto questo in Bruton. Gervant Schroeder ha fatto questo in Germania. Papa Pairo ha fatto il dipito in Greece. È stato qui. E' stato il deal. E qual era questo accordo? Qual era il contenuto del patto del patto faustiano? I socialdemocratici che erano a quell'epoca al governo hanno detto alle banche guardate noi gli diamo un occhio magari anche voi voi fate un po' come vi pare però in cambio ci continuate a dare un po' di soldi di modo che noi continuiamo comunque a finanziare lo stato sociale gli ospedali e tutto l'altro. come ha fatto Tony Blair nel Regno Unito come ha fatto il Consiglio Schroeder in Germania come ha fatto Papa Pairo da noi e come è stato fatto anche in Italia. Questo era il contenuto dell'accordo. There were three parallel processes political processes strengthening this. One was that the money that they were taking from the finances were indeed creating political consensus. People liked the expenditure pensions on hospitals that was number one. Number two they were also being financed by the bankers to run their political campaigns and their offices and they felt for the first time they didn't have to struggle against capital. And the third the left has always had a nasty authoritarian streak in it. I'm confessing this as a left-wing. We must always have a tendency towards self-criticism. I remember in the when was it? 1992, 1993 or something like that in Rome I was visiting a philosopher friend of mine in Italia I won't tell you his full name he won't forgive me if I do his name was Roberto I'll just leave it as Roberto a dedicated hardcore member of the BCI of the Communist Party and it was at the time when the Communist Party no longer was Communist Party it became something de la sinistra. And I said Roberto aren't you communist anymore? He said no. I said why? He said because the party says so. The point I'm making is that people like D'Alema always believed that he had the divine intervention of history on his side. The left sold their souls to finance gained a lot of power and they also retained that complete Stalinist belief that history was on their side. put these things together and you have 2008. Tre processi politici si sono svolti parallelamente che hanno rafforzato questa inclinazione e questa tendenza. Primo. I soldi che comunque i governi socialdemocratici sono riusciti a farsi dare dalle banche dai finanzieri hanno in ogni modo creato un consenso politico per loro perché con quei soldi come abbiamo detto finanziavano le pensioni, gli ospedali e tutto quanto il welfare state insomma lo stato sociale. Due. I partiti, molti nuovi politici di quei partiti si sono fatti finanziare le campagne elettorali dai banchieri stessi ed ecco che di colpo non volevano più fare la lotta contro il capitalismo chissà come mai. Tre. la sinistra attenzione, io sono un nome di sinistra mi proclamo tale e penso che dobbiamo conservare un senso autocritico noi della sinistra e quindi autocriticamente dico che noi della sinistra abbiamo sempre avuto una certa propensione all'autoritarismo. C'è detto la sinistra sempre stato un filone autoritario. Io ricordo benissimo era il 92 forse il 93 o il 94 ero in Roma sono andato a trovare un amico mio che fa il filosofo italiano il primo nome fa Roberto il nome non ve lo dico perché sennò poi dopo gli dispiace il cognome non ve lo dico e lui era proprio il comunista il prototipo del comunista puro e duro partito tessera all'epoca però il PC non era più PC si chiamava adesso una roba nel nome alla fine c'era sinistra e gli dico Roberto ma che come va? la storia tu non sei più comunista? e lui fa no e dico io ma perché? perché lo dice il partito persone come D'Alema ed altri di questa genia hanno sempre il reso pensiero che hanno da parte loro l'intervento della provvidenza dell'intervento della divinità che si chiama storia hanno la storia dalla loro conclusione quindi i partiti socialdemocratici dell'Europa e del mondo si sono venduti l'arma alla finanza hanno conquistato il potere sempre più scopere per esempio più consensi ma intanto hanno conservato quella simpatica prevenzione stalinista che avevano da sempre tutto questo sommato insieme vi produce in 2008 quindi quando la crisi del 2008 veniva in Europa 2009 2010 e queste persone che erano in potere congiunti con le banche e le banche erano in 2020 Pleare chiudete le banche non hanno la capacità o sceitto le banche che ci paintan erano � muitos in lagacht arriurano iρano che gli nuovi difetti roe 嚇ivono and they called it austerity and then they started believing in austerity and arguing for austerity it was at that point that the soul of the social democrats was completely solved the devil and social democracy was kaput to return to a Germanic mode arriva la crisi dagli Stati Uniti in Europa nel 2008 e poi nel 2009 e nel 2010 e siamo in crisi e questi governi sono ancora al potere e ci stanno con aiuto delle banche e dei loro amici panchieri le banche vanno fallite alcune banche come sappiamo ma questi social democratici di governo non hanno avuto né il coraggio morale né la capacità analitica di dire ragazzi prendete il telefono e telefonate agli amici panchieri e dirgli voi ora andate a casa perché noi possiamo salvare gli istituti di credito possiamo salvare le banche ma non i banchieri ed ecco che invece le vertiche dei banchieri sono state prese e gettate addosso i contribuenti dei vari paesi dell'Unione l'hanno chiamata austerità e l'hanno difesa la spada tratta dopo che da progetti social democratici si erano venduti l'anima al diavolo e ci hanno mandati per usare un noto termine del vocabolario tedesco caputo applausi Grazie. I mercati sono anche questo e quindi la cosa che fa impressione è questo suo continuo interrogarsi sulla reazione che possono avere i mercati. I mercati naturalmente nel 2010 non esistevano più per la Grecia, però ci furono dei momenti in cui lui si poneva questo problema come reagiravano gli investitori. Quindi è un economista serio, da questo punto di vista. E lui ammette a un certo punto, ma è una lunga storia, quella del piano B. Questo piano B che anche adesso per il nostro paese, per l'Italia, sta creando delle enormi turbulenze sui mercati, che ci sta facendo pagare un sacco di tassi di interesse di più, eccetera. Ecco, questi piani B per l'uscita dall'euro, primo, possono funzionare realisticamente senza distruggere il resto dell'Europa? Cioè può l'euro sopravvivere se un paese esce fuori dall'euro? E non è folle in qualche modo far trapelare come sta facendo qualcuno di questo governo e di questa maggioranza l'idea che l'Italia possa ricattare l'Europa se l'Europa non fa quello che dice l'Italia? Si esce. No, infatti no. La puntualizzazione era che in Grecia c'era il piano B, come c'era la BCE, ma Barufakis fu sempre attentissimo a smentirlo e naturalmente hanno un re dell'Occubbico, ecco. Perciò non mi raccomandiamo a smentirlo. No, non mi raccomandiamo che sicuramente nessuno ha mai sentito parlare del mio piano B quando io ero parte del governo di Italia, perché se l'Occubbicizzi, se ne voglio parlare a destra e a sinistra, il piano B diventa il piano A. A plan B è essenziali. Just like the Ministry of Defense ha una struttura nazionale e morala di avere un plan di avertere l'invazione di un paese. Non perché voglio una guerra, non perché voglio un'invazione, ma perché la only way di avere sicurezza è di avere un plan che ha giusti la sicurezza. La Banca europea Settile, come si parliamo, ha un plan per il Brexit, per l'Italexit, per l'exito di Portugia. Tutta banca in questo paese ha un plan per l'exito. Tutta chi che è serio ha un plan di avertere l'invazione di un plan di avertere l'invazione di un plan di avertere l'invazione. Inoltre, il nostro movimento, Dm25, in Italia, ha un plan A per rendere l'invazione di Italia sostenibile in Europa, in cui non è. E, ovviamente, devi avere un plan B, so che Schäuble, o Scholtz, o Merkel, o whoever, non non blackmaili. Perché questo è quello che hanno fatto con noi. They blackmaili us. So, let's keep clear on this. I had a plan A, backed by a plan B. The problem with Salvini, is that he ha a plan A, to get out of Europe, in cui pretende che è un plan B. That is a big difference. Il piano B è sempre una cosa essenziale, che bisogna avere. Il ministro della Cisera, ogni ministro della difesa, ha il dovere morale, oltre che il dovere nazionale, per aver prestato un giocamento, di scongelare l'invasione del suo paese, non perché voglia la guerra in modo particolare, ma perché questa è l'unica maniera di garantire la sicurezza. Dovesse mai succedere qualche cosa, se non hai un piano, il paese viene invaso, devi salvaguardare la sicurezza del tuo paese. La guerra centrale europea, voglia quanti piani che c'ha? Per la Brexit, non solo, per l'Italexit, per la Portoghexit, quello che volete, ma anche le banche, tutte le banche italiane hanno un piano, in vista dell'eventuale uscita dell'Italia dall'Euro. Cioè, chiunque si affaccia seriamente il suo mestiere, ha un piano d'emergenza, c'è poco da fare. Però, nel mio piano A, abbiamo già detto che il mio piano A era semplicemente ristrutturare la Grecia e renderla, metterla in grado di vivere, sopravvivere e prosperare nel sistema monetario europeo, dentro l'Euro. così come la formazione europea, alla quale sto dando vita insieme con altri, che si chiama DEM25, anche in Italia, ha il piano B, di prendere l'Italia, di mettere l'Italia in condizione di essere sostenibile nell'Euro, cosa che attualmente non è. E comunque, a voi, sciove dell'America, eccetera, non ti ricattano. alla Grecia, a noi greci ci hanno ricattato, e come? E la differenza tra noi e Salvini, che adesso è al governo in Italia, è che lui ha un piano A per l'uscita, ma questo è il suo piano B, questa è la grande differenza. Noi non abbiamo mai parlato del nostro piano B, noi abbiamo sempre messo avanti il piano A, e questo sarebbe il piano per ristrutturare e cambiare. Allora, Can Italy blackmail the European Union? Yes. 2.6 trillion. If you owe 1000 euros, you can't blackmail it. When you owe 2.6 trillion, you can blackmail the world. There's no doubt about that. The question is, should you? Ok. Another question is, Can Italy survive outside of the Europe? Yes, it can. Yes, it can. There will be a cost, but it can. The question is not, Can it? Should you aim to get out of the Europe as your plan A? No, is the answer to that. So you see, we need to have sophisticated answers. It's neither, it's not black or white. Yes, you can blackmail Germany. In the same way, Germany blackmails you. But we should, as Europeans, move beyond mutual blackmail. We should simply state that which is good for the Germans, that which is good for the Greeks, for the Italians, this is what we do as PM25, the European New Deal, and say, let's do this because, not because I want to gain something at the expense of the Germans, but because Germany is not there anymore. Half of the German population today are worse off than they were 10, 15 years ago. Okay? Okay? So there are mutual interests which are not being served by the President. And you have asked me, but Italy would be able to ricattare the European Union as it would be? Yes? Because if you have 1000 €, you can do it, but if you have 2300 billion of €, you can do it, you can do it, but you can do it. whichever one is not any question, but you can do it. The question is not be you, but you must be and will be... And, If Germany should be. if the European Union were once it was for released from the EURO? Yes, it would be, but they would be to try to do it. And once again, the question is, is there to be, is there to be a lot of issues? The answer is, no, the things are not as though they are all white as they are black and as they are all black. There are all these stories and vice versa. le sfumature, lo dovreste benissimo ricattare la Germania usando i mezzi di pressione cui si pensa, ma perché invece non facciamo tutti quanti un passo fuori, non usciamo tutti fuori dalla modalità ricatto vicendevole, non cerchiamo di fare tutti insieme qualche cosa che vada bene per la Grecia, per l'Italia e anche per la Germania, anziché pensare sempre a fare qualche cosa che si ritorca contro la Germania, che vada a svantaggio della Germania, a spese della Germania, e a quanto sappiamo benissimo, e se no lo sappiamo diciamocelo, che oggi la metà della popolazione della Germania generale sta peggio di 10 anni fa o di 15 anni fa, ci sono degli interessi che sono comuni e a questi interessi proprio non serve la dinamica del ricatto vicendevole, la situazione attuale non giova agli interessi comuni di tutti, spagnoli, italiani, greci, tedeschi. Grazie. 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 ma finché li proporrei tutti non si faranno mai cioè cosa voleva dire Mario Monti e parlava anche di se stesso finché l'Italia e la Grecia due paesi con 1.300 miliardi di debito la Grecia altrettanto due paesi con il maggiore debito andranno in Europa a battere con il tavolo e a chiedere un cambio di linea eccetera i paesi nordici fanno un muro come si risolve questo quindi ci sono un po' di più per creare un movimento pan-europeo che prende a un democrazio da Germania, Holland, Belgium da il nord, da il nord da l'esterno, da l'esterno, da l'esterno so che possiamo spostare simultaneamente in ogni parte dell'Europa la fase di politica nazionale è terminata dobbiamo avere un nuovo progresso internazionale all'Europa so che possiamo tutti rispondere contro l'organizzazione in tutta Europa e cercare di aprire una nuova era ormai l'era delle politiche nazionali è bella e finita dobbiamo aprire inaugurare una nuova era di politiche progressiste pan-europee e in questa provincia cercare di unire le forze contro la stupidità grazie 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 grazie